ciao a tutti. o un video se io credo dove c'è portato che è il fatto ho fatto io ma siamo tutti c'è un'altra ma è stato sempre che ho fatto l'iscrizione per essere dei pompieri o con le ragazze campanile il fuoco ossario il fuoco come se il suo lavoro non so come fare non sono elettrificato ma era da mondo come faccia realizzarmi a risultato mi voglio portare a questo su questo e guarda guarda il rapporto il genere ci dovevo stare un corso di metà eccole per la comparsa ok vai scappa scappa la scensura non troverò la scensura aperto mi ne vado da voi mi ne vado ciù no spalle le persone spacco e spacco e spacco io spacco gli elevati ok ecco trovata sono un tizio godo vedo uno da non c'è ti sono prestiti da troppo in alto no l'ho lanciato e muoiono e quindi per una nizia a punto utente il entrato si è entrato tutto plastica mi hai fatto di plastica sto ma no sono caduto giù sono morto sono morto sono morto sono morto incarico fallito ragazzi facciamo raga c'è ancora cosa spaccare no è un bagno questo è un bagno ok vado ok c'è qualcuno sotto ah ma c'è un tipo la penne dei puliti sotto allora no eh comunque le pompe le dovete ricaricare eh se andate dai lavandini e clicca al quadrato le ricaricate oh cosa mi ho diventato boom boom ho disattivato l'elettricità ora possiamo passare da qualsiasi parte qua sopra io sono morto sotterra spegni il fuoco attorno che vuol dire non è morto pure vabbè no due sono morti boom uno l'abbiamo preso preso e apriti c'era da questo quanto è scemo sto qua guarda qua se ne ecco che si è il suo filo suio sui non vuoi non tu guarda carlo ce ne c'è il fuoco quello il fuoco c'è la scappa del tempo di bambini no perchè poi viene il fuoco il fuoco pt ma non c'è la propria cci 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 cce cci 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 ccit sottostante con forse stile no cci cci cc non sto morendo, sto morendo, sto morendo ah perchè tutti quanti sono ingerito in sto appartamento? oh un aiuto mi sto morto, lo scemo ci deve salvare non si è mentre voi usa il telefono no? quello non ho usato quello scemo, incarico fallito come rosenic è finito il nostro lavoro da compiere cioè è un bel lavoro che ho fatto ragazzi chiamateci, chiamateci ti sa che veniamo tutti quanti è 155 stelle 115 il numero dei pompieri penso, non lo so comunque a noi ci vediamo alla prossima, ciao